buongiorno buongiorno buona domenica buona domenica da gohan e da giacomo buongiorno a tutti buongiorno buongiorno che bel giorno buongiorno buongiorno allontaniamoci di qua vieni non fare la pipì vicino a lui buongiorno cari amici cari amiche oggi qua a bari è una bellissima giornata c'è il sole ecco qua abbiamo messo l'acqua mettiamo sempre l'acqua mi raccomando e come vi dicevo oggi è una bellissima giornata qua bari anzi è già da molti giorni che è una bellissima giornata più di una settimana abbiamo il tempo sereno il cielo sereno e soleggiato andiamo con aspetta aspetta con aspetta allora qui ci troviamo via nicolai e la via dove abita Goni e la via dove abita Giacomo Goni e Giacomo abisano via domenico nicolai mettiamo sempre l'acqua Goni mettiamo sempre l'acqua dobbiamo essere bravi ed educati e rispettosi dell'ambiente vieni 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 giriamo di qua vieni oggi faremo una sorpresa alla nonna andiamo andiamo oggi domenica andiamo a trovare la nonna russa andiamo vieni da questo lato allora questa qua si chiama via indipendenza naturalmente le strade di Bari la maggior parte sono tutte diritte e non sono né a volte purtroppo cari amici c'è sempre qualcuno che o per distrazione o per sai per menefrecchismo lascia la cacca per terra dei loro cari pelosetti come vi dicevo le strade di Bari sono quasi anzi sono tutte dritte e pianeggiate noi ci troviamo ci troviamo a due posti dal mare e questo è via d'antariglieri guardate come sono lunghe questo è via d'antariglieri allora via d'antariglieri come via domenico nicolai portano diritto diritto al centro di Bari che sarebbe via Sparano e portano direttamente al mare dal porto dal Bari Vecchio alla Basilica di San Nicola alla cattedrale alla città vecchia di Bari aspetta guarda aspetta prendiamo l'acqua dobbiamo essere sempre ben educati dobbiamo rispettare l'ambiente ecco questo è il quartiere naturalmente dove sono nato e sono vissuto io e naturalmente dove è vissuto voi dove sta vivendo voi il quartiere ora ci avviciniamo vedete dove c'era quella serronda che ho richiesto lì dentro attualmente fino a qualche tempo fa c'era il forno a legna dove faceva il penne casereccio e questo è il quartiere Libertà dove abitiamo io e Don e questa qua è la bici guardate guardate quanto è bello le strade qua sono tutte dritte tutte le strade portano al centro al centro e al mare questo è difficile vieni vieni andiamo andiamo da questo lato in quel portone che vedete di fronte a me abita mia madre che sarebbe la nonna di Gohan le cose sono cambiate naturalmente ai miei tempi c'erano e c'erano per le strade molti ragazzi si giocava si divertiva e oggi non è più così però comunque va bene lo stesso si sa che i tempi cambiano le persone cambiano tutto cambia e questa è via bici e qui è il portone dove abita la nonna rosa la nonna di Gohan in questo portone aspettate che ora sogniamo vedete Intruna Intruna è mio padre e Pasquariello è mia madre sogniamo vediamo se c'è arrivederci cari amici ora vedrete Gohan che corre subito vai ciao 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 ciao